L'avvertenza giorno 4 siamo stati al Mise, le organizzazioni sindacali, nazionali, CGL, Cisleguil hanno chiesto a viva voce, in modo forte, la sospensione della procedura della legge 200 ex articolo 4 e 24, della legge 223. Quindi rigettiamo gli elementi contenuti in essa e hanno chiesto le organizzazioni sindacali, unitamente alle segreterie provinciali e territoriali, di nuovo il piano industriale. Perché crediamo che negli interventi e negli incontri che ci sono stati precedentemente l'azienda si è sempre rifiutata di presentare il piano industriale. L'interlocutore è oggi, ancora ad oggi, latitante. Chi è venuto è stato intervistato in videoconferenza, per cui è questo un ennesimo schiaffo alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali. Non riteniamo che nel nostro paese c'è una storia di relazioni sindacali e questi signori non hanno mantenuto e non sono stati corretti verso chi rappresenta il paese e chi rappresenta i lavoratori da lungo, lungo tempo. E ha fatto storia nel nostro paese, nell'Italia. Grazie.